ciao a tutti sono massimo varini e in questo video per eventide italia come eventide ambassador vi voglio mostrare come controllare in modo più profondo il nostro h9 senza l'ausilio di una pedaliera midi sto parlando dell'utilizzo di questo barn 3 o x 9 e questo bar 3 tesla che cosa sono sono degli aux switch che possono essere utilizzati da solo anche in combinazione sia col tesla che con un pedale di espressione qualsiasi e che permettono di avere accesso a delle funzioni più profonde del sistema dell'h9 vi mostrerò quindi come configurare dall'h9 control dall'applicazione che gira su computer quindi che voi abbiate un mac o che abbiate un sistema windows nulla cambierà quindi andiamo a vedere che cosa può fare questo sistema per prima cosa infiliamo questo jack dove c'è scritto expression lo si infila il pedale fatto apposta la piastra combaccia con i fori dei gommini andiamo a avvitare le viti ed ecco che la piastra è fissata poi se vogliamo collegare anche il tesla dobbiamo avere cura di tenere questo switch in su che terremo invece in giù quando utilizzeremo un pedale di espressione andiamo a collegarlo ed ecco che quindi avremo lo switch 1 2 e 3 colleghiamo anche l'alimentazione e il cavo usb che dall'altra parte sarà collegato a una porta usb per prima cosa dopo aver aperto l'app h9 control su apple mi ripeto o windows andiamo a cliccare su pedal ok ovviamente dobbiamo aver selezionato nel caso che noi abbiamo più di un h9 il pedale su quale vogliamo lavorare andiamo in general settings e andiamo qui dove c'è scritto use expression pedal aux switch or both in questo caso io voglio usare soltanto aux switch perché lo x9 e il tesla sono aux switch ok poi faccio back una volta back una seconda volta ed ecco che trovo aux switch mappings in questo caso io vado a decidere che cosa far fare al mio pedale quindi come colloquiare col bar 3 in questo caso ad esempio ho deciso che per incrementare il preset cioè salgo di un numero e immediatamente caricarlo utilizzerò il foot switch 3 che è tip più ring che è quello sulla base dello x9 sulla destra mentre per decrementarlo quindi diminuire di un numero il preset e immediatamente caricarlo dirò foot switch 2 mentre è quello ausiliario il tesla gli faccio fare il tuner andiamo a vedere che cosa succede configurato in questo modo con questa configurazione ogni volta in cui premerò il tesla ecco che avrò il tuner disabilitato immediatamente ogni volta che premerò questo che il 3 che si chiama tip più ring avrò un incremento di preset con l'immediato load vedete che qui non è attivo premo vado sul 23 e si attiva se lo disattivo andrò sul 24 e si attiverà 24 si attiva torno indietro 23 lo attivo 22 attivo 21 in caso che io invece voglia restare sullo stesso preset disattivarlo attivarlo lo farò da qui in questo modo sempre il tap a disposizione quindi preset giù preset su tuner bypass tap ovviamente posso poi assegnare a ciascuno di questi switch una funzione specifica all'interno di un algoritmo specifico e quindi che cosa farò tornerò sul mio h9 control e una volta disabilitate le funzioni precedentemente configurate quello che abbiamo appena fatto potrei andare a configurare quello che si vede qui looper potrei decidere che ognuno di questi pulsanti diventi il play lo stop il record quindi sono funzioni è tutto assolutamente memorizzabile e configurabile scollegando poi il tesla possiamo collegare un pedale di espressione per fare questo dobbiamo però cambiare la posizione dello switch laterale lo switch deve stare così nel caso si utilizzano gli switch o così nel caso di un pedale di espressione ma tutto è scritto chiaramente nelle istruzioni in questo caso di nuovo in general settings dove c'è use expression pedal aux switch or both dovrò dire both ok quindi entrambi perché sto utilizzando degli aux switch che quindi ho x9 di barn 3 e invece ho collegato anche un pedale di espressione torno indietro e a questo punto vado invece a mapparlo aux switch mappings set expression pedal value e gli dico che il foot switch 1 torna indietro per un perfetto funzionamento il barn 3 ci permette di utilizzare un normalissimo cavo mono e un pedale del volume si collega all'out si collega qui vediamo che il pedale del volume diventa un pedale di espressione ovviamente all'interno della confezione ci sono le istruzioni però per qualsiasi informazione in più basta collegarsi a eventideaudio.com oppure andare sul sito barn3.com e mi raccomando seguite sempre eventide italia ciao